A breve il nuovo parco dell'ex campo d'aviazione di Fano intitolato Luciano Polverari verrà inaugurato alla città. Un lavoro importante ben visto e voluto fortemente dall'amministrazione comunale fanese. Sarà l'area gioco pubblica dedicata all'infanzia più grande del territorio attrezzata con alcuni elementi che non esistono nel resto della città. Così l'assessore Samuele Mascarin ha descritto più volte questo polmone verde che vedrà tra pochi giorni giocare e animare tutti i bambini e le bambine di Fano e della provincia. Dopo aver installato i lampioni per un'ottima illuminazione, una fontanella per l'acqua ed attrezzato l'aria con gli arredi il parco di Via della Colonna ha visto anche concluso il fondo in gomma per attutire le cadute dei più piccoli dai giochi. Ed è proprio qui che nei giorni scorsi sul nostro gruppo reporter di strada ci hanno segnalato i primi disagi. È un mese che sono finiti i giochi al campo d'aviazione, guardate come sono già ridotti, si sta staccando tutta la gomma, spero che ancora non sia stata pagata la ditta, scrive in un post su Facebook. Pronta la risposta dell'amministrazione comunale che provvederà già dai prossimi giorni a contattare la ditta è incaricata. L'area giochi del nuovo parco Polverari ha avuto fin troppo successo, nel senso che abbiamo avuto un po' di ragazzi, di bambini che sin dai primi giorni, appena terminati i lavori, hanno iniziato ad utilizzare l'area gioco quando ancora la resina non era pienamente asciutta. E questo ha prodotto in 3-4 punti un ammaloramento del tessuto di gomma che riveste l'intera area. La ditta ha già fatto insieme al dirigente Dottor Giangolini del Comune di Fano un soprologo proprio nella giornata di ieri e in base alle condizioni meteorologiche lunedì interverrà per ripristinare le parti che sono state danneggiate. Danneggiate con impronte a forma di scarpe, per cui è abbastanza chiaro anche rinvenire un po' quello che è stato l'accadimento. Approfitto dell'occasione per ricordare che tra qualche settimana restituiremo finalmente ufficialmente quest'area alla città, che già adesso per la verità anche alle mie spalle è ampiamente utilizzata da bambini e dei bambini e quindi il 20 di settembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'area giochi del nuovo parco Luciano Polverari e in quell'occasione il sindaco Massimo Seri annuncerà una serie di novità e anche di belle sorprese per tutti coloro che amano il parco e che in generale si aspettano un riutilizzo ampio, articolato, anche di natura sociale di tutta quest'area.